Per quanto lontani da zone di guerra, siamo tutti raccolti sotto lo stesso cielo, coltivando la speranza della pace. È il messaggio che Jeannine McCarg, studentessa della Quinta del Liceo Artistico Stagio Stagi, ha voluto trasmettere con il fondale realizzato per il tradizionale presepe allestito sul sagrato del Duomo di San Martino a Pietrasanta. La natività è stata inaugurata mercoledì mattina alla presenza del sindaco Alberto Giovannetti, del vescovo emerito di massa Don Giovanni Santucci e del vicario parrocchiale Don Messias Barsella, davanti a tantissimi studenti del liceo accompagnati dagli insegnanti. Sono stati oltre 40 i ragazzi che hanno partecipato direttamente alla realizzazione del fondale sul tema indicato dall'amministrazione comunale, ovvero la guerra. Il Natale porta con sé tanti valori, fra questi anche la speranza, e mai come nel nostro tempo questa speranza è rivolta alla pace, ha sottolineato il primo cittadino, ringraziando la comunità scolastica e parrocchiale per il lavoro svolto. Fra i diversi bozzetti proposti è stato scelto quello di Jeannine, intitolato Le stelle illumineranno anche le notti più buie. Rappresenta alcuni edifici sventrati dalle bombe, edifici realmente esistenti in varie parti del mondo dove i popoli sono in guerra. Un bianco e nero senza vita, ha spiegato la studentessa, si sovrappone a un cielo dai toni oltre mare pieno di stelle. Fra le macerie e il fumo della distruzione, la speranza della pace batte forte nei cuori perché a di là delle distanze condividiamo tutti lo stesso cielo.